Ciao ragazzi, sono Giulio Berruti, volevo ringraziarvi per tutto il tempo che mi dedicate, per le mail che scrivete e per i messaggi positivi che inviate sul forum. Sono venuti oggi a pranzo tra me, Jenny e Ilenia, sono due ragazze fantastiche, poi insomma con loro avevo un rapporto di amicizia molto bello che è incominciato a luglio. Vi desidero solo ringraziarvi, la mia personale mail è giugamariaberruti.it se volete contattarmi o comunque se volete chattare con me tramite MSN. Vi mando un bacio grande a tutte, ciao!